Siamo subito. Cosa c'è che non le va? Beh, le spalle, sono larghe. Ma no, è lei che ha le spalle strette. Faccia un po' di ginastica. Ho le sue come sono belle. Buono, buono. Siamo in piazza. Io sono per le tue piazze. Quando ci vediamo? Se vuole, possiamo fare stasera le notte. Mi dentro? Al monumento di Mamera. Stellona. Via, via. Lei ha finito? Purtroppo. Si accomodi. Grazie, grazie. Permesso? Finalmente, giuia mia. Non volevo mica offendere, sa? Sono solo timido e non so parlare. Sa com'è? Invece di allungare tanto.